Io ho detto che secondo me per un uomo non è semplice mettersi in gioco a fare una stilata, a programmarsi il tutto Perché le donne invece si Ma è una gara, in una gara ci sono dei voti Cioè non è che hanno impiegato otto mesi, è una cosa banale Lei sa il mio pensiero, ha ragione comunque, io ho torto a prescindere, non ho capito Ma non posso dire il mio pensiero, ma sei nel mio cervello Ma perché non posso avere il mio pensiero? Non è per caziaria, se ti danno dei voti è perché abbiamo un criterio di valutazione E ti danno il numero 10, devi usare Ma l'abc non lo fai Non ho mai partecipato a una votazione, ho visto un altro tipo di cosa Ma non è che se fai la cosa per la prima volta sei un incapace Uno ci pensa, aspetta mi ha detto dal numero 10, non è che si può fare Ma io sono spiegato il perché del mio voto Mi state dicendo, hai sbagliato, sbagliato Me lo state spiegando, io ho spiegato il motivo del perché io ho votato in quel modo Comunque Valentina, lei sta uscendo con Armando Mamma mia Non gli va bene neanche quello, sicuro A me? Non ti va bene neanche quello Ma questa, cioè ma tu, oh ma se io ti ho detto che ho fatto pure l'armato Ma perché è nuova, perché le più anziane, diciamo qua dentro, non è per età Ormai ti hanno sinurato, non escono più con te Nessuna di quelle, cioè ormai puoi imbambolare questi new entry Ma se io neanche lo conoscevo Armando finché non l'ho visto davanti a me Ma se io neanche lo conoscevo Armando finché non l'ho visto davanti a me Grazie 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 Grazie